Grazie a tutti Il 14esimo Padova Tango Festival Piazze Cos'è? Allora, è il 14esimo Tanti anni Il festival di Padova è stata una delle prime manifestazioni di tango Il tango in Italia è risbocciato negli primi anni 90 Padova, Venezia è stata una delle città capostipite nella divulgazione Dal 2000 è un secondo forse come anzianità, come tradizione, manifestazione a livello nazionale E ha una caratteristica particolare che rispetto ad altre manifestazioni del settore che sono rivolte magari agli appassionati È un festival divulgativo Si preoccupa e si occupa di divulgare il tango non solo come vallo ma come cultura, musica, letteratura In ogni suo aspetto e al pubblico che ancora non lo conosce E per cui il tema di quest'anno, sempre c'è un tema, scegliamo un tema Il tema di quest'anno piazza è proprio quasi a certificare il fatto di mettere in piazza proprio il tango Che insomma è da un po' che comunque portate avanti anche sulla piazza Sì, ormai non è più una stranezza vedere ballare il tango in città Soprattutto d'estate nelle piazze nel momento del festival Quando solitamente ovviamente è un ballo che si sviluppa e si mantiene nei club e nei locali Per cui non è così visibile al grande pubblico E nell'occasione del festival è proprio interessante anche come stiamo facendo qui al festival Shellwood Incrociare altre manifestazioni così importanti del territorio Sia per una sinergia tra le manifestazioni e per un maggior numero di contatti E invece visto che prima parlavi del punto di vista divulgativo C'è in atto, ormai sta per chiudersi però insomma c'è stata Sì, avevamo 40 coppie di giovani pulcini tangheri A calcare diciamo il parquet Questo noi l'abbiamo fatto anche nelle piazze E devo dire per esempio nelle prime edizioni C'era un po' di riottosità a mettersi in piazza lì Adesso è abbastanza normale E' interessante anche dopo come ricaduta per le varie scuole di tango che ci sono Che sono numerose a Padova Vedere come non solo chi pratica ma chi guarda la lezione Un po' alla volta si avvicina Perché il tango viene visto come un ballo estremamente sensuale Ma anche molto difficile E' difficile capirne i codici dal di fuori E invece vedendo persone normali che apprendono E che nel giro di pochi minuti già cominciano a muoversi È un bello spot per il tango Come lo è l'aspetto del ballo sociale Rispetto al tango coreografico da palcoscenico Ci sono ottimi spettacoli che girano da molti anni Però che vengono visti sempre un po' lì sul palco Invece vedere magari con un conoscente che balla in pista E vedere l'intensità che c'è in questo abbraccio In questo ballo Genera intenzione di provare Quindi ritorna al tema dell'abbraccio Ritorna proprio ad hoc Infatti io ti chiederei questo Alberto Io prima sono passato di là Vedevo che appunto c'era la lezione di tango in corso Allora io vi chiederei di appoggiare i microfoni sul tavolino Spostare un po' indietro il divanetto E fare vedere una presa Un abbraccio di cui prima mi ha parlato anche L'autore del libro Lo dovete fare assolutamente Allora l'uomo L'umino alla telecamera deve stare attento a inquadrare Allora forza in piedi però Spostate un po' indietro il divanetto Avrei bisogno di capire questo abbraccio Come si fa Allora io faccio la telecronaca Tu giusto Tu lo sai fare anche con una mano sola Posso dire che lo fai solo perché c'è una donna e non c'è Ivan No l'avrei fatto anche con Ivan Grotti Ma avrei chiesto a lui se la sentiva di farlo Il tango notoriamente inizia Si dice si ballava tra uomini Sia perché la popolazione argentina era l'80% maschile E anche perché Ancora adesso all'epoca Non c'erano le accademie così E uno non si poteva presentare impreparato Allora si esercitava e poi si presentava la ballerina Se passasse qua Ivan Grotti Veramente gli avremmo fatto fare subito questa cosa Purtroppo c'è Claudia La quale dopo devo appunto provare un approccio del genere Vediamo come si espleta Allora prima lo faccio vedere Dopo lo descriviamo Attenzione ecco io nel frattempo Faccio una scarna descrizione di quello che sta accadendo È avvenuto l'abbraccio Diciamo la presa dietro la schiena Con il braccio destro E una rotazione Ovviamente i due partecipanti a questo corso di tango Per web tv Presa con la mano molto dritta La mano dell'uomo fa un ok No è come se facesse un ok col dito No abbassa il pollice Ma quella cinge e va quasi esatto A sfiorare il seno Il laterale Ecco subito si interrompe sbagliato Ho pestato una merda Ci sono vari tipi di abbraccio E la cosa interessante che non si nota È che anche all'interno dello stesso tango L'abbraccio può cambiare A seconda di quello che c'è come proposta di figure Può essere un abbraccio più morbido Più aperto Più chiuso O diciamo anche molto intimo Tu hai optato per quello più intimo Ma per motivi di educazione No perché il ballo sociale Prevede che l'abbraccio sia chiuso Perché occupa meno spazio Non peraltro Ah ecco Grandissimo Io vi ringrazio per questa dimostrazione Che avete fatto in diretta Dovendo aggiustare anche lo studio Insomma L'unica cosa che mi viene da chiedere Qualcuno che adesso ci ha visto Ha visto anche la sottoscritta Vuole un riferimento dove trovarvi Con le vostre iniziative Microfono Ok Sì Sì A seguito un po' del festival Dove abbiamo fatto varie anche lezioni Così di introduzione Sempre proponiamo dei corsi estivi Anche Guarda caso domani inizia Un corso intensivo Nel senso che si svolge due volte Alla settimana La nostra sede Noi siamo in centro a Padova La nostra associazione Si chiama Cochabamba 444 È un po' complicato Che è una pratica Cioè un locale Molto informale Di Buenos Aires Di San Telmo Con cui siamo gemellati E noi siamo In vicolo dei conti 14 Che è una laterale Di via 20 in settembre Proprio in centro a Padova E proponiamo Oltre che questi incontri E quel festival Anche dei corsi Adesso proprio partirà Un Proprio domani Un corso intensivo Per cui Sarà possibile Per chi Scalpita Imparare in poco tempo La BC Va bene Noi ringraziamo Alberto Muraro Anche perché so che adesso Insomma Si apriranno anche Nuove tanze E Diamo un contributo Dalla regia E torniamo in studio Grazie Alberto Ciao Grazie